Onorevole Fiano, a lei che lettura dà di quanto è avvenuto a Torino al consigliere Musi? Beh, intanto la lettura di un evento drammatico, la cui efferatezza, la cui violenza ci colpisce, intanto perché probabilmente è un tentato omicidio, perché ha delle modalità, per quello che se ne sa fino adesso, con una certa qual organizzazione, con un'individuazione della persona, magari di un orario, dell'indirizzo. Ovviamente il nostro pensiero deve attendere le ricerche degli inquirenti per capire come collocare questo evento terribile. Il nostro primo pensiero va alla salvezza della vita di Musi e un abbraccio ai suoi familiari. Purtroppo qualcuno di noi pensa in queste ore che questo evento potrebbe collocarsi in una violenza, diciamo così, di tipo politico. Aspetteremo con calma e pazienza, anche per non diffondere paure e timori senza averne le prove, il lavoro degli inquirenti. Ovviamente noi non dimentichiamo che nelle settimane scorse il capo della Polizia Manganelli, che i servizi segreti avevano avvisato della possibilità che fosse in corso un salto di qualità di certe forme di violenza politica, verso eventi più gravi, luttuosi, anche verso eventi omicidi. Che cosa possiamo augurarci in queste ore? Che non sia così, che non sia vero che questo è frutto di violenza politica, che sia magari frutto di qualche cosa d'altro. Siamo in un momento molto difficile del nostro Paese. Sono ore difficili per le trattative sul tavolo del lavoro, sull'articolo 18, c'è tensione sociale, c'è anche contrasto sociale. Sono ore in cui tutte le forze politiche, tutte le istituzioni devono tenere i nervi saldi. Attendiamo notizie, ci auguriamo il più celeri possibili dagli inquirenti. Ci auguriamo veramente che non si stia per riaprire in questo Paese una pagina di violenza politica come purtroppo questo Paese ha già vissuto e non vorremmo veramente riviverla.